32esimo reggimento di fanteria inglese, questo è il mio ultimo lavoro, bello dipingere pezzi ben scolpiti, questa scultura di Polix, penso che questa sia la Brega Games, è veramente piacevole dipingere belle cose insomma, poi il rosso degli inglesi è sempre un piacere, un piacere dipingere, guardate la finizza della scultura, questo è un reggimento del periodo precedente nel 1812, quando uno sciacolo diverso da quello che portavano a batterlo, diciamo che questo è il reggimento dell'uniforme che era presente penso nella campagna di Spagna, ecco vedete, la truppa, ci sono i canati lì dietro, gli ufficiali, il tamburo, il portabandiera, vedete, adesso cerchiamo di fare un primo piano, guardate, stile Polix è inconfondibile secondo me, soprattutto per i visi, vedete, beh, veramente piacevole dipingere queste sculture, bene, allora, vediamo l'insieme finale, ecco.